salve dedico questo video bellissimo a tutti i miei cosi lì cominciamo con questo è il pacco che mi è arrivato stamattina così tadaan chissà cosa contiene questo pacco gigantesco contiene la mia morte probabilmente visto non so faccio taglia leva i sigilli ah la va il secondo sigillo sono bravissimi a tenere le cose in mano oh che emozione guarda il video di unpacking delle cose che ci sarà dentro componenti sarà dentro trasformatoi no facciamo mano sola spoiler attenzione 3 2 1 1 mezzo c'è un scontro che è cascato ruma 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 tutti gli imballaggi polistirolo contiene dei fogli mi hanno mandato un pacco di questo volume con tutti gli imballaggi dentro che contiene dei fogli, dei trasferibili. Un pacco con tutto questo imballaggio qua che contiene dei trasferibili. Allora, non mi lamento del contenuto, non mi lamento del costo, ma mi domando se è così necessario spedire un pacco di queste dimensioni, con dentro tutto questo polistirolo, che adesso mi ficherò il polistirolo qua, ciao, non vedo, non so farlo usare le camere, questo polistirolo qua, che meraviglia, che adesso mi ficherò da qualche parte, tipo non specifichiamo dove, no, comunque il polistirolo non si macchia. Va bene, ciao ciao!